E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo voglio darvi qualche consiglio per completare il settore perduto e leggenda di questa settimana. Attività che vi ricordo se completate in solo vi da la possibilità di ottenere una delle nuove armature esotiche. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su video in uscita. Detto questo iniziamo. Questa settimana il settore perduto è vuoto e nascosto e si trova nell'abisso di Asterion su Europa. Se non vedete il segnalino sulla mappa di gioco significa che non avete ancora sbloccato quel settore, vi basterà quindi scendere e completarla in modalità normale. Ora io sono riuscito a completare la versione leggenda che richiede un livello luce di 1250 al 1225 e con qualche difficoltà. Vi mostrerò quindi come ho affrontato i vari boss ma ovviamente il mio non è l'unico metodo per completare l'attività. Nel settore incontrerete in tutto tre capitani sovraccarichi e un servitore barriera. Vada a sé quindi che avete bisogno delle modifiche dedicate. Io ho usato una mitraglietta per i barriera e un automatico per i sovraccarichi ma avendo la possibilità un ricognizione sarebbe stato più utile per pulire i cerchini con più facilità. Inoltre ci saranno quattro nemici con scudo elementale, due solari, uno ad arco e uno a vuoto. Non essendo a conoscenza del servitore finale a vuoto io ho usato due armi ad arco e la sottoclasse solare. E a parte l'anarchia come pesante che è veramente molto comoda e dopo vedremo perché, un ricognizione a vuoto sarebbe l'ideale come secondaria. Per quanto riguarda la sottoclasse ho utilizzato il ramo basso del pistolero con il falconato celestiale in modo da poter eliminare velocemente alcuni campioni e da fare poi danno al boss. Per ultimo ma sicuramente non meno importante vi consiglio una combo di due modifiche che vi alleggeriranno non poco il peso dei sovraccarichi. Queste sono ottenibili dal quarto ramo dell'artefatto stagionale e si chiamano sovraccarico termico e divoratore di ondata. Una vi permetterà di stannare i nemici sovraccarichi con la granata mentre l'altra ricaricherà la granata istantaneamente ogni volta che un sovraccarico verrà stannato. In questo modo potrete fare i campioni utilizzando quasi solamente la granata che vi si ricaricherà automaticamente ogni volta che la utilizzerete per stannarne uno. La preparazione quindi è finita, andiamo ora a vedere come affrontare il settore Z. Prima di tutto sappiate che per completarlo avrete a disposizione tre rianimazioni di partenza e che ogni campione ucciso ve ne fornirà una bonus. Non ci sono limiti di tempo ma dopo 15 minuti se morirete non potete rianimarvi. Quindi appena sponati vi ritroverete davanti ad un lungo corridoio con reglietti e stiletti. In generale il mio consiglio è di fare sempre il prima possibile i reglietti, questo perché lanciano continuamente granate che sciottano senza pietà. In particolare fate attenzione al reglietto sulla destra che si nasconde dietro al muro. Uccidendo i nemici il primo sovraccarico dovrebbe fare capolino. Per stannarlo dovremo sfruttare la colonna in mezzo al corridoio, rimanendo sempre dietro di lei per evitare che il capitano vi uccida con soli due colpi. Se non avete la granata a questo punto stannatelo con l'arma e appiccicate gli due colpi di anarchia. Questo sarà il procedimento generale per tutti i campioni sovraccarichi, ovvero lasciare sempre due colpi di anarchia a far danno e stannarli di continuo con la granata. Fate attenzione però perché i colpi e le granate sovraccariche non sembrano funzionare molto bene. Per far sì quindi che la granata funzioni sempre dovrete aspettare che il capitano si sia completamente ripreso per lanciarla, altrimenti non avrà effetto e lo stesso vale per i colpi sparati dall'arma. Ucciso il primo campione attraversate il corridoio e pulite gli ultimi stiletti rimasti, facendo attenzione ai vandali e alla daga sulla sinistra. Rimanendo quindi dietro a questo muretto finite prima i cecchini, che come vi ho detto con un ricognizione è molto più semplice, per poi tagliare lo scudo alla daga con una granata o con un corpo a corpo e finirla con due colpi di anarchia. Fatto ciò la prima stanza sarà terminata. Continuiamo ora nella seconda, una volta passati sotto l'ostacolo rimanete sul balconcino per far spawnare i mob e stando attenti al servitore barriera sulla sinistra uccidete il capitano e i due reglietti che spawnano diritti davanti a voi. Fatto ciò potrete andare avanti e sfruttare questa colonnina come riparo contro il servitore. Vi avverto che questo si muoverà in maniera molto strana e se ogni tanto non lo vedrete più è perché si sarà incastrato sotto alla piattaforma su cui stanno i tre reglietti che mantiene immuni. Rimanendo coperti dalla colonnina quindi date qualche colpo al servitore in modo da farlo spostare e rendere gli stiletti vulnerabili, il tutto facendo sempre attenzione alle granate dei reglietti. Puliti tutti gli stiletti e rimanendo sempre coperti dai reglietti attaccate i soliti due colpi di anarchia al campione e preparatevi a distruggere la barriera. Mantenevendo sempre due colpi di anarchia sul servitore questo dovrebbe attivare lo scudo al massimo un paio di volte e vi basterà quindi stare pronti ad abbatterlo aspettando che l'anarchia faccia il resto. La sua utilità sta proprio nel fatto che potrete fare danno senza vedere direttamente il nemico e quindi senza esporvi rischiando di prendere danno. Morto il servitore pulite rapidamente i tre reglietti e dalla piattaforma su cui si trovavano uccidete anche gli altri due più avanti. A questo punto dietro l'angolo avrete una daga con scudo solare, un cecchino molto violento e un capitano sovraccarico. Sarendo sulla struttura vex riuscirete a vedere solo la daga, facilmente eliminabile con lo stesso procedimento di prima. A questo punto continuate sulla piattaforma e stando coperti dal campione eliminate il cecchino facendo attenzione perché se non siete full vita un suo colpo vi ucciderà. Fatto ciò ripetiamo lo stesso procedimento di prima con granate anarchia sul sovraccarico. Stavolta però fate attenzione perché questo oltre a riprendersi più velocemente dallo stun si andrà a nascondere dietro al muretto e potrebbe anche cadere di sotto. Tra i tre che troviamo nel settore però è sicuramente il più facile da eliminare e con qualche granata ben piazzata andrà giù velocemente. Uccise il campione si apriranno le barriere. Appena saliti fate attenzione alla granata che se esplode crea un campo di rallentamento e vi espone pericolosamente agli abietti che indovinate un po' vi sciotteranno con un corpo a corpo. Facendo quindi su e giù uccise tutti gli abietti con calma e procedete. Qui troverete un lungo corridoio pieno di stiletti esplosivi e con in fondo un cecchino violento come quello di prima. Inoltre nascosto sulla sinistra c'è un sovraccarico pronto a frantumarvi non appena vi avvicinerete. Facendo quindi attenzione al cecchino fate esplodere gli stiletti a debita distanza e eliminate il vandalo. Quindi dovrete saltare il burrone e tornare subito indietro questo perché non appena salete dall'altra parte comparirà un altro gruppo di stiletti esplosivi. In tutto ciò non dovreste dovervi preoccupare del sovraccarico che rimarrà sempre nascosto. Eliminati tutti gli stiletti stannate il campione con la granata e finite con il falconotte. Ho utilizzato la super solo qui perché durante le varie prove ho realizzato essere il punto in cui è più utile essendo un corridoio molto ampio e senza coperture. Potreste pensare di utilizzarla sul servitore barriera di prima ma vi avverto che non lo sciotterete e se non siete veloci a capire dove si teletrasporta e a rompere le barriere rischiate di buttare il falconotte. A questo punto abbiamo raggiunto la stanza del boss e se avete fatto tutto bene dovreste avere ancora circa 5 minuti e al massimo 6 animazioni. Dovrete quindi sfruttare tempo e rest per correre nella stanza del boss e eliminare tutti i reietti, gli stiletti, i vandali e gli abietti che altrimenti renderanno la boss fight molto più impegnativa. In tutto ciò se avevate preparato un'arma a vuoto fate velocemente anche il servitore con due colpi di anarchia. Se invece non potete togliere lo scudo non ci provate nemmeno perché morirete prima di aver tolto un'attacca. Vi conviene aspettare che si carichi il falconotte per poi spararglielo in bocca. Pulito tutto iniziamo a far danno al boss a colpi di anarchia. Sappiate però che circa verso la metà della vita sponeranno altri nemici. Non saprei dirvi se respona anche il servitore dato che glielo ho lasciato per ultimo. Se volete stare sicuri però fate come me. Durante tutta la boss fight quando avrete finito il tempo o le animazioni un buon punto è l'accesso alla stanza. Se state accucciati qui riuscirete a vedere le gambe dei mob rimasti e del boss e quindi a finire di pulire o fare un po' di danno mentre aspettate che si ricarichi la super. Il tutto ciò ovviamente rimanendo coperti. Uccisi quindi tutti i nemici nell'ultima stanza il settore sarà completo e non vi resterà che aprire la cassa finale. In generale per riuscire nell'impresa vi basta non aver fretta e tornare in quei soliti punti salvi ogni volta che iniziate a prendere danno. Soprattutto se da un cecchino. Per il resto si tratta solo di prendere bene il tempo e non far gliciare i sovraccarichi. Quindi ragazzi io spero che il video vi sia stato utile e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Siamo la tua salvezza.